Dalle strade e dalle carceri si rastrellano 335 italiani che vengono ammassati e uccisi dalle SS nelle cave erdeatine. Roma, 24 marzo 1944. In rappresaglia per l'attentato di Via Rasella, compiuto il giorno prima dai partigiani del GAP in cui morirono 33 nazisti, il tenente colonnello delle SS, Herbert Kappler, ordina la fucilazione di 330 italiani, 10 per ogni tedesco ucciso. In una cava sulla Via Ardiatina vengono giustiziate 335 persone, uno dei più gravi crimini di guerra perpetrati dalle truppe occupanti naziste in Italia, come spiega il giornalista e storico Mario Vagliano. Con una particolarità, che l'eccidio delle fosse ardiatine è un eccidio simbolo della resistenza, perché quasi tutte le vittime, a differenza di Marzabotto, di Sant'Anna, di Stazzema, erano partigiani o antifascisti, non quindi civili. E in più, l'altra particolarità è che il 25% delle vittime erano ebrei, per lo più arrestati solo per motivi razziali. Un eccidio che è importante ricordare e commemorare anche oggi, a 80 anni di distanza, sottolinea il professor Luca Sollae del Dipartimento di Storia dell'Université de Montréal. È particolarmente importante ricordare questi momenti tragici, perché sono quelli che poi hanno messo le basi per la nascita della nostra Repubblica e per la scrittura della nostra Costituzione. Pochi mesi dopo, la città era libera. Nel libro Le vite spezzate delle fosse ardiatine, scritto insieme a Marco Palmeri, Avaliano ha raccolto e ricostruito le storie di ciascuna delle 335 vittime del massacro, per quello che lui stesso definisce un dovere civico, un risarcimento morale per gli italiani che sacrificarono la loro vita per la libertà. Tante storie interessanti che raccontano anche una cosa importante, cioè che la resistenza italiana non è stata una resistenza di una sola parte politica, ma ha riguardato tutte le classi sociali e tutte le tendenze politiche. Eppure anche il ricordo del massacro delle fosse ardiatine, così come altri episodi che partengono al periodo della resistenza, in Italia diventano spesso motivo di polemica o distingue da parte delle forze politiche? La resistenza purtroppo progressivamente ha perso il suo valore centrale come momento fondatore chiaramente della Repubblica Italiana, nel senso che era qualcosa che si è affermato molto dopo la Seconda Guerra Mondiale, almeno per i primi decenni, poi progressivamente anche per le turbulenze politiche che ci ricordiamo, gli anni di Piombo e l'arrivo particolarmente del berlusconismo, abbiamo spostato progressivamente la tensione dalla resistenza come momento fondatore a altri momenti fondatori come sia la città della Repubblica, ma più da un senso di identità italiana, della patria. C'è una lezione nel senso che bisogna stare attenti, fatti chiaramente tutti distinguo, a non banalizzare atti e azioni anche nel presente perché non sappiamo poi mai come potranno evolvere in un futuro. Un fenomeno causato anche dalla grande disinformazione che esiste sugli avvenimenti di quel periodo. Ad esempio sull'azione che precede le fosse argatine, cioè l'azione gappista, l'attacco gappista di Via Rasella, si è detto che i responsabili di questo attacco se si fossero consegnati e avessero risposto a un presunto appello dei nazisti, l'eccidio sarebbe stato imitato. Però non si è mai trovata nessuna prova di questo appello a consegnarsi.